Silver Economy, qual è il futuro del welfare secondo lei per l'Italia? È un futuro da costruire con saggezza e con prudenza, facendo interagire in modo positivo lo Stato che ha un grandissimo ruolo e una grandissima responsabilità, che poi vuol dire la responsabilità collettiva di tutti noi e anche il settore privato che può trovare spazi di innovazione, spazi anche di nuova ricerca ma che deve interagire con il welfare pubblico per il miglioramento del benessere, della sicurezza economica nell'età anziale.